Mamma mia! Amore! Che c'è? Hai visto che? Sta casa sta cadendo a pieza! E da me che vuoi? Io ti ho chiesto aggiustami i rubinetti e non li hai fatti. E che faccio l'idraulico? Ti avevo chiesto di cambiare la lampadina nel bagno, l'hai fatti? E che faccio l'elettricista? Ti ho chiesto pure di mettermi le tente nuove, l'hai fatti? E che faccio intanto insieme? E comunque ho risolto il problema. E come l'hai risolto? Ho chiamato il portiere. Il portiere? Ha aggiustato tutto lui? Sì, certo! E quando ci hai accostato? Niente! Quello mi ha chiesto! Ho mi pagato in natura? Ho mi fatto una torta? E tu ci hai fatto la torta logicamente! E che faccio i pasticcieri?